Ci sono tanti territori nel nostro paese che stanno facendo la loro parte in fatto di accoglienza migranti. Ci sono enti locali che credono profondamente nell'accoglienza e nell'importanza di dare un futuro a chi è stato meno fortunato e oggi ha bisogno di speranza. Presso una struttura privata della montagna seravezzina troveranno alloggio nei prossimi giorni 12 migranti richiedenti asilo facenti parte della quota dei 48 soggetti assegnati al comune di Seravezza nell'ambito del programma di accoglienza gestito dalla prefettura di Lucca. Ne ha dato notizia la stessa prefettura stamattina alle autorità comunali. La struttura di accoglienza si trova nei dintorni della frazione di Azzano. 13 migranti alloggiano da tempo in alcune abitazioni private dei comuni seravezzino nell'ambito di un progetto di accoglienza gestito in accordo con la misericordia di Rito di Camaiore. 12 sono quelli annunciati adesso dalla prefettura di Lucca. Intendo rimarcare che in questo caso si tratta di un'iniziativa gestita in piena autonomia dalla prefettura e dal privato che ha messo a disposizione gli alloggi, dichiara il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella che con l'assessore al sociale Orietta Guidugli segue in prima persona il delicato tema.